www.montediprocita.com Terzo anno qui a Monte, due anni fa sei venuto qui con una squadra giovane, siamo arrivati in finale col Salerno, l'anno scorso la gioia della promozione, quest'anno? E quest'anno la gioia di partecipare a un campionato nazionale che è quello che tutta Montedipoce si aspettava. Problemi ce ne stanno, sono tanti, abbiamo un girone di ferro fortissimo sia per le campane che ci sono ma soprattutto per le pugliesi. E' un girone nuovo per quanto ci riguarda perché andiamo a affrontare realtà totalmente diverse, ci confronteremo anche con l'esperienza della trasferta lunga, cosa che alcuni ragazzi non sono ancora abituati. Abbiamo una squadra molto giovane, stiamo ancora cercando di allestire il roster, sperando di riuscire il tutto nei prossimi giorni. I primi due acquisti ufficiali sono Mattia Enrico che è un play che l'anno scorso ha giocato nel Salerno e due anni fa batti Pai ottenendo la promozione in B2 e l'ultimo acquisto è stato Salvatore Enrico, Ala di Pozzuoli che l'anno scorso era vicina al passaggio a Monte e poi per questioni burocratiche è andato via. Sì, ci siamo affezionati agli Enrico come cognome, di fatti stiamo perdendo un po' di tempo sul mercato perché è un pivot che si chiama Enrico perché sennò a quel punto, no scherzi a parte. Sono due ottimi elementi, due ragazzi che hanno tanta voglia, soprattutto sono molto giovani, hanno tanta voglia di far bene, di dimostrare che quello che di buono hanno fatto finora non è soltanto un'ipotesi remota ma è la conferma del lavoro che hanno fatto in questi anni. Sono venuti pieni, pieni, pieni di voglia e carica di agonismo, si vede già da questi primi allenamenti, hanno voglia di fare, voglia di lavorare, non si fermano mai e questa è la cosa positiva. Speriamo che durante la fase del campionato possano essere loro i protagonisti insieme ai già confermatissimi giocatori di Monte che avevamo l'anno scorso e a quelle pedine che stiamo provando con degli under nuovi che insomma in questi giorni ci vedranno calcare questo perché. Coach, allora, dicevamo le trasferte lunghe tipo Molfetta, Bari, però due ritorni Benevento, l'anno scorso in campionato vincitrice e quel famoso Salerno che tanto a noi ha fatto piangere. Salerno solo come città perché non è la stessa, è l'altra società di persone totalmente diverse da quelle che noi abbiamo conosciuto insomma perché si ha dettati molti meno male, non è così e sono situazioni che si lasciano poi alle spalle. Noi abbiamo vicino Benevento, che la sentiamo trappente più vicina perché è quella che ha partecipato allo stesso girone nostro l'anno scorso vincendolo in pieno merito. L'altra Benevento che comunque sulla carta sta allestendo un roster di tutto rispetto, ci sono allenatori bravi in questo campionato che lo conoscono molto bene. La stessa Napoli del mio amico Massaro sta cercando di tirar fuori dal bivaio il meglio che ha per cui ti dico sarà sicuramente da tutti i punti di vista un campionato totalmente diverso da quello dell'anno scorso perché ci vedeva protagonisti in un girone abbastanza forte ma comunque protagonisti. Ora i protagonisti sono su 12 squadre, anzi li mettere tutte quante perché alla fine non si può mai dire sono tutte società già provate per questi campionati, noi siamo la matricola anche se abbiamo la nostra famosa esperienza alle spalle ma negli anni almeno per quanto ci riguarda il confronto con un campionato di C nazionale a detta di tutti negli ultimi 4-5 anni non è mai così forte. Per cui mi auguro di poter dare tante soddisfazioni al pubblico di Monte di Procida, te compreso anche se non te le meriti perché sei venuto oggi solamente dalle vacanze, no scherzi a parte per cui noi speriamo di dare il massimo, vedremo come andremo ad affrontare questo campionato. Allora ti facciamo in bocca al lupo e alla prossima.